Il 2017 sarà un anno speciale per la città di Biceglie. C'è una coincidenza davvero particolare che riguarda i patroni della città, e cioè i santi martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone. Nel 2017 infatti si celebrano i 1900 anni dal martirio avvenuto il 27 luglio del 117 d.C. e l'850esimo anniversario del ritrovamento delle reliquie. Presentato a Biceglie è un fitto calendario di eventi, sia religiosi che culturali, per celebrare le tre figure storiche bicegliesi. Sì, è un evento che forse non capiterà più nel millennio, questa combinazione di due ricorrenze nello stesso anno per quanto riguarda il ricordo dei nostri santi patroni. Quindi abbiamo voluto profondere il massimo impegno e il massimo sforzo. Sono contento che questa mia amministrazione abbia caratterizzato il suo impegno nel sostegno a tutte quelle attività sociali, culturali, ma soprattutto quelle anche religiose che ci riportano al nostro DNA, quello storico della comunità bicegliese. Quest'anno abbiamo deliberato proprio qualche giorno fa, in anticipo, con una bella programmazione, quello che era stato il nostro impegno all'interno della commissione voluta dall'Arcivesco Monsignor Picchieri che vede proprio costituire una task force di progettazione per quello che sarà un anno straordinariamente importante con tanti eventi, con un anno tutto un'unica logica, un'unica filosofia anche di raccordo con la storia della nostra comunità e uno sforzo anche economico importante. Significa che nelle priorità dal punto di vista amministrativo ci sono sicuramente, oltre che le logiche di solidità del bilancio del Comune di Biceglie, anche quelle di valorizzazione della nostra storia e dei nostri santi patroni. Quindi un bel momento di grande intesa con le autorità ecclesiastiche e soprattutto di straordinario impegno delle autorità laiche in una comunione di intenti che ci vede profondere sinergicamente il massimo impegno nella direzione della valorizzazione della nostra storia.